Un caro saluto da Diego Fusaro, un caro saluto a tutti. Hanno fatto molto discutere e continuano a fare molto discutere le recenti dichiarazioni del Cardinale Zuppi. Il Cardinale Zuppi rappresenta al meglio l'essenza, l'anima, se vogliamo usare questo termine particolarmente in disuso oggi, della neo-chiesa liberal-progressista arcobaleno e wustochiana post-cristiana e cool di Bergoglio. La neo-chiesa di Bergoglio si caratterizza per portare a compimento l'evaporazione del cristianesimo anziché per opporle resistenza e di questo mi sono occupato ampiamente nel mio libro La fine del cristianesimo. Il Cardinale Zuppi ha detto testualmente che il Vangelo non è un distillato di verità. Ora, questa affermazione, perfettamente coerente se pronunziata da un ateo, da un agnostico o da un appartenente ad altre religioni, suona particolarmente stonata se pronunziata da un esponente di primo piano della gerarchia ecclesiastica. Nel caso specifico Zuppi è un cardinale, lo ricordiamo, per quanto sia espressione della tendenza liberal-progressista della Chiesa, ebbene verrebbe da domandare pacatamente al Cardinale Zuppi che cosa sia allora il Vangelo, se non è un distillato di verità, se magari la verità non esiste neppure, come ormai non ci stupiremmo se la neo-chiesa di Bergoglio si spingesse a dire, resta da capire cosa sia il Vangelo, un racconto per bambini, una narrazione, un libro tra i tanti, una storia edificante ma senza verità. Insomma, davvero siamo al culmine del processo di evaporazione del cristianesimo, ormai in balia della dittatura del relativismo, come la chiamava Ratzinger, dittatura del relativismo in forza del quale alla maniera protagorea tutto è ugualmente vero, ugualmente falso, non ci sono valori assoluti, non ci sono fondamenti veritativi, e allora il Vangelo stesso, secondo le parole del Cardinale Zuppi, può essere inteso come qualcosa di diverso da un distillato di verità.